Ehi ragazzi, ben ritrovati. Oggi non pensavo di far uscire un doppio contenuto, anche perché di Bologna e Juventus abbiamo già parlato ieri, abbiamo già detto praticamente tutto quello che c'era da dire. Infatti non parleremo del campo oggi, bensì parleremo delle parole nel prepartita di Francesco Calvo. In realtà vi ho già spiegato, chi ha visto i due video precedenti sa come la penso, chi era in live su Twitch ieri sera sa come la penso. E quindi che secondo me sono soltanto parole di circostanza, ve lo voglio dire già subito, quindi potete già chiudere il video se era questo che volevate sapere. Però forse non basta dire sono soltanto parole di circostanza, bisogna andare anche ad ascoltarle e a commentarle tutti insieme in modo da poi spiegarvi perché secondo me sono parole di circostanza. Quindi credo che sia giusto e doveroso fare così e vi dico anche che comunque questo video si collega strettamente a un altro che ho già fatto uscire in settimana sul canale in cui vado a spiegarvi i quattro scenari di futuro tra Juventus e Allegri. Quindi si incastrano alcuni ragionamenti con quello. Se ancora non l'avete visto magari ve lo lascio questo panel di scheda e potete recuperarvelo. O lo trovate comunque nel canale. L'altro giorno un ragazzo mi ha detto mi piace di più quando fai sentire la conferenza piuttosto che leggere te il virgolettato. E ovviamente su una conferenza stampa da 20-30 minuti non posso far ascoltare la conferenza perché se poi ci metto anche il mio commento andiamo per le lunghe se non lunghissime. Però su dei brevi pestettini di interviste invece possiamo farlo. E questo è il caso. Quindi ascoltiamo l'audio dell'intervista ai microfoni di Dazon. Ovviamente non vi faccio vedere la faccia di Calvo per non rischiare problemi legati al copyright. Questa è stata un'intervista appunto rilasciata a Dazon nel pre-partita. Eccola qua. Può dire che la Juventus come società ovviamente può essere soddisfatta alla fine di questa stagione con uno dei primi quattro posti e magari con la conquista dell'Europa League? Se sono questi gli obiettivi concreti e se c'è collegata la riconferma di Allegri oppure è una cosa che verrà valutata a prescindere da questi due obiettivi? Allora intanto la domanda è articolata con una prima parte che va a riprendere la domanda che fece infuriare Allegri di Faviana della Valle. Cioè la Juventus per cosa è soddisfatta, per cosa è contenta. E poi viene articolata appunto con una domanda sulla permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Se Calvo risponde così. Ma gli obiettivi per questa stagione sono il secondo posto e poi andare in finale di Europa League perché ancora non ci siamo. Quindi prima andiamo in finale e poi pensiamo a vincerla. Sulla conferma di Allegri, io credo che confermare Allegri... Allora intanto parliamo dei due obiettivi. Arrivati a questo punto i due obiettivi massimi che può avere la Juventus sono appunto il secondo posto e la vittoria dell'Europa League. Come ricorda giustamente Calvo per arrivare a vincerla prima di arrivare a qualificarti per la finale. Dato che in questo momento anche la doppia sfida col Sevilla sembra un ostacolo insormontabile, è giusto mettere in ordine cronologico le cose, metterle in file. Quindi pensare prima a qualificarsi per la finale e poi a vincerla. Giunti a questo punto questi sono i due massimi obiettivi della Juventus perché è il massimo che si può raggiungere. Quindi vediamo, anche perché ieri sera con il pareggio di Bologna la Juventus è aritmeticamente fuori dalla lotta a Scudetto. La Juventus non può vincere lo Scudetto in questa stagione, così mettiamo da parte tabelle e tabelline che francamente avevano stancato ed erano diventate francamente al limite del ridicolo. Il Napoli vincerà lo Scudetto, manca un punto, oppure che la Lazio non faccia un filotto da quella fine della stagione. Mettiamola da parte perché c'è ancora, o almeno fino alla settimana scorsa c'era ancora una parte di tifoseria che sperava nel miracolo e immaginava. Dai ragazzi, su, un po' di realismo. In questo momento significerebbe dire un'ovvietà, per cui per noi questo assolutamente è il nostro pensiero. Confermare Allegri in questo momento sarebbe dire un'ovvietà, quindi questo è il nostro pensiero. Questa è la dichiarazione di Calvo, andiamo avanti. Allegri è tornato alla Juventus per un progetto di quattro anni. Non siamo neanche alla metà perché non abbiamo ancora concluso la seconda stagione, per cui il progetto è di quattro anni. Allegri per lui parlano gli undici trofei in sette anni alla Juventus, le due finali di Champions, per cui assolutamente non è in discussione. Quello che è importante per noi è che anche in una stagione come questa abbiamo voglia di imparare, di crescere, di migliorarci. E questa è una voglia che abbiamo sia noi dirigenti, che l'allenatore, che i giocatori. Allora, queste sono le parole di Calvo, che poi va ad analizzare anche la situazione legata al direttore sportivo. Dice, comunque io, Allegri, Cherubini, in questo momento stiamo guidando la parte sportiva, siamo un blocco granitico. Quindi risponde, tra virgolette, a distanza Massimiliano Allegri, che aveva parlato di blocco granitico. E qua c'è un vero e proprio assist, perché il blocco granitico che ha richiesto Allegri è proprio questa roba qui. Quindi sicuramente, come dicevo l'altro giorno, per quanto mi riguarda, per la mia ricostruzione, un incontro tra le parti c'è stato. E poi è ovvio che i microfoni, ripeto, parole di circostanza, come dicevo all'inizio. Perché immaginatevi un dirigente della Juventus che prima di Bologna-Juve, nel pre-partita di Bologna-Juve, va ai microfoni e dice una frase del tipo No, assolutamente, Allegri non sarà l'allenatore della Juventus l'anno prossimo, oppure non è assolutamente detto che Allegri rimanga la Juventus l'anno prossimo perché non siamo soddisfatti del percorso e quindi poi ci riuniremo e valuteremo. Perché i casi erano tre, dire che Allegri è in discussione, dire che Allegri verrà fatto fuori, dire che Allegri rimarrà. C'erano queste tre possibilità, cosa poteva fare? E in quale dei tre casi poteva scoppiare la bomba atomica? In due. E in quale invece si lasciava tranquillo un ambiente fin troppo sollecitato e si rimandava poi la decisione alla fine della stagione? In uno. Ed è lo scenario che è andato appunto in onda, a reti unificate in tutta Italia. Quindi, ragazzi, a me sembra anche assurdo dover sottolineare questa cosa, ma le parole di Calvo in questo momento erano doverose. Non poteva dire altra roba. Poi, se Allegri verrà confermato davvero oppure no, io questo non lo so, posso soltanto farvi delle previsioni, raccontarvi la mia opinione, ma le parole di Calvo erano obbligatorie. Diventa anche anacronistico, no, questo ragionamento, perché Calvo dice che Allegri ha altri due anni di contratto, non abbiamo ancora terminato la seconda stagione, era un progetto di quattro anni, e per lui parlano, a testimonianza del lavoro che si sta facendo, gli undici trofei in sette anni. Gli undici trofei in sette anni, però, per Allegri sono arrivati nel primo ciclo, nell'1.0, negli anni che vanno dal 2014 al 2019. E invece qua stiamo parlando di un progetto iniziato ormai due anni fa, dove non sono arrivati i trofei, quindi è una sorta di autogol quello di Calvo, che semplicemente non poteva dire altro, perché che cosa salvi dell'Allegri 2.0, dell'Allegri 1.0, salvi undici trofei in sette stagioni, che sono cinque in realtà. Se poi vogliamo peggiorare questo score, mettiamo dentro anche queste ultime due stagioni, ma in queste ultime due stagioni, risultati da mettere in bacheca, tra virgolette, mettere in risalto anche i microfoni, non ce ne sono. E quindi, che altro poteva dire se non questo? Ma parliamo appunto di un discorso anacronistico, perché non stiamo parlando di quello che Allegri ha costruito in questo progetto di quattro anni, in cui ne sono passati due, sperando con tutto il cuore di poter aggiungere un'Europa League a questa bacheca, che possa finalmente diventare il primo trofeo dell'Allegri 2.0, anche se, come vi sto dicendo da un po' di tempo a questa parte, io non vedo i presupposti, ed è un po' lo stesso ragionamento che vi facevo a marzo. Io mi ricordo che a marzo continuavo a dirvi, ragazzi, no. Ragazzi, no. Stiamo vincendo delle partite, ma le stiamo vincendo senza cuore, senza anima, senza grinta, senza niente, senza merito a volte. E mi ricordo tanti che mi dicevano, sì, ma Luca, ti vedo scarico, abbiamo vinto, dovresti essere contento. Io avevo già la testa all'aprile, eh. Avevo già la testa all'aprile, ero preoccupatissimo per aprile, e vi dico, nella preoccupazione totale che avevo per aprile, non avrei mai immaginato un aprile così disastroso. Quindi io che avevo già dei sentori di difficoltà, non mi immaginavo una roba del genere. Quando vi continuavo a dire, non siamo pronti, dobbiamo migliorare, non va più bene farsi andare bene quello che andava bene nei mesi precedenti, perché una squadra che arriva a questo punto deve essere più avanti. Eppure non mi immaginavo così tanto disastro. E oggi vedo un maggio tostissimo, perché comunque abbiamo sette partite di Serie A, la lotta per le prime 3-4 posizioni è ancora apertissima, abbiamo l'Atalanta e il Milan ancora da affrontare, quindi difficilissimo, più l'Europa League, che vi ripeto, vedo pochi presupposti oggi per passare il turno anche solo col Sevilla, e quindi vediamo, però è ovvio che Calvo non può fare una panoramica su questa nuova avventura di Allegri e la Juventus. Deve per forza, per cercare di giustificare, per mettere in evidenza quello che è stato conquistato a Allegri e con la Juventus, i risultati del primo ciclo. Ma loro lo devono valutare sul secondo, perché sul primo si era già deciso, sul secondo invece non si è deciso. E voglio ampliare anche un pochino la panoramica, perché qualcuno mi dirà, ma no, ma non ci credo, c'è una volta che un dirigente parla, significa che 16 aprile 2019, il presidente bianconero, Andrea Agnelli, ha i microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione della Champions, due punti, aperte virgolette. L'Ajax ha ampiamente meritato il passaggio del turno, bisogna fargli complimenti, ci riproveremo la prossima stagione con Allegri in panchina. L'eliminazione dalla Champions per mano dell'Ajax, Agnelli conferma Allegri. Il 16 aprile 2019, siamo al primo maggio, era il 30 aprile, stiamo parlando di 11 giorni di distanza, di una decina di giorni di distanza, due settimane di distanza da quella finestra temporale, ad oggi cambia soltanto l'anno, stiamo parlando di quattro anni dopo. Quindi questo punto della stagione la conferma dell'allenatore, con l'allenatore che poi non rimarrà in panchina effettivamente. Bene o male si era detta la stessa roba con Sarri, ora non ricordo esattamente che cosa era stato detto, ma ricordo benissimo, ricordo benissimo un Pavel Nedved che il 10 maggio del 2021, due punti, aperte virgolette, Pirlo rimane certamente e anche Ronaldo. Ci sono un po' di difficoltà, è normale, ma combatteremo fino alla fine. Pirlo rimane certamente e anche Ronaldo. Questa è la parola di Nedved, ai microfoni in striscia la notizia, dopo un tapiro d'oro consegnato, che roba allucinante, ma dopo un tapiro d'oro consegnato a Pirlo, a Nedved, perché la Juve stava andando male. Wow, tapirata proprio in una maniera incredibile. Però questi sono due esempi banali, banalissimi, di due finestre temporali molto vicine al termine del campionato, in cui il dirigente si ritrova costretto a dire certe cose, ma ci mancherebbe altro. Lo dicevo prima. Se dice il contrario, boom, scoppia il mondo. E quindi devi per forza confermare. Agnelli, tra l'altro, diceva quando ho detto quelle parole, era effettivamente così, l'idea era di andare avanti. E poi invece, chiacchierando, parlando, confrontandoci, è venuto fuori la necessità di cambiare. Magari è banalmente la stessa identica cosa, con la società che ha già un'idea, un'idea che potrebbe essere quella, nella testa di alcuni dirigenti, di confermare, nella testa di altri dirigenti, di cambiare, e poi ci si ritrova al termine della stagione, a bocce ferme, si discute, e poi si prende la decisione. Identico, stesso discorso, accaduto appunto con Sarri, esonerato il giorno dopo l'eliminazione della Champions per mano del Lione. Con Allegri, invece, si era arrivati a terminare il campionato dopo che la Juventus non era più in corsa per l'Europa, dopo che la Juventus non era più in corsa per la qualificazione, per lo Scudetto. Aveva già vinto lo Scudetto, era già qualificata in Champions, si è potuto dire qualche giornata prima della fine. Ora che la Juve, invece, è ancora in lotta per arrivare nelle prime quattro posizioni, e magari nelle prime due, perché ti dà la possibilità di entrare a giocare la Final Four della Supercoppa italiana dell'anno prossimo, è ancora in corsa per l'Europa League, la Juventus non può permettersi oggi, anche se ha già deciso eventualmente di sostituire l'allenatore, di dire cambiamo l'allenatore l'anno prossimo. Perché l'anno bisogna finirlo in queste condizioni, in questa situazione mancano nove partite, forse otto, forse nove, otto, forse nove, se ho fatto bene i conti con la finale di Europa League. Quindi, ragazzi, non si poteva dire nulla di differente, nulla di differente. È logico dire così, e infatti anche lo stesso Pirlo ha terminato l'anno, e al termine della stagione sono passati addirittura due, se non tre giorni, di discussione prima di annunciare, appunto, il ritorno di Allegri e l'esonero di Andrapirlo. Questa è un po' la mia disamina, la mia lettura, vi ho portato gli esempi concreti, ma fatemi sapere comunque anche la vostra opinione, perché magari c'è qualcuno che dice no, per me le parole di calmo sono state limpide, sincere, oneste, e hanno spoilerato quello che sarà il futuro della Juventus. Ogni opinione è lecita in questo momento, dato che nessuno ha delle informazioni più concrete o più dirette, dato che ha i microfoni, il dirigente della Juventus conferma l'allenatore, conferma il progetto e dice sia soltanto a metà. Quindi a livello giornalistico questa è la notizia, poi non significa che sarà effettivamente così. Un abbraccio! Un abbraccio!